Il cognitivismo può essere definito come un indirizzo della psicologia scientifica che si propone di studiare i processi mentali considerandoli analoghi a processi di elaborazione dell'informazione. Ricordiamo che con la locuzione psicologia scientifica si intende la psicologia come materia scientifica che nasce in Europa nella seconda metà dell'Ottocento. Tra il 1850 e il 1870 infatti vari scienziati, in particolare fisici e medici iniziano a occuparsi dello studio della psiche analizzando le sensazioni, le emozioni e le attività intellettive applicando a questi studi le stesse metodologie applicate alle scienze naturali dando vita appunto alla moderna psicologia scientifica. E ripetiamo che siamo qui tra gli anni 1850 e 1870. Ma torniamo al cognitivismo. In realtà questa corrente psicologica non costituisce una vera e propria scuola in quanto ha al suo interno un'eterogeneità di presupposti, procedure di ricerca, obiettivi e modelli teorici. Tuttavia i suoi esponenti presentano alcuni elementi comuni quali, ad esempio, l'interesse per gli eventi mentali interni al soggetto questo è importante, quindi non quando si materializzano tramite comportamenti come accadeva nel comportamentismo il considerare l'organismo come dotato sin dalla nascita di competenze specifiche e la concezione dell'individuo come essere che costruisce la propria rappresentazione del mondo in parole molto povere, cioè il mondo e come ognuno di noi lo vede. E questi erano i tratti comuni appunto agli esponenti del cognitivismo che, come abbiamo già detto, non è una vera e propria corrente psicologica ma ha dei tratti comuni tra i suoi esponenti. Le connessioni tra il cognitivismo e il comportamentismo sono numerose e anche abbastanza profonde Ricordiamo che il comportamentismo si fonda sullo studio scientifico del comportamento cioè degli aspetti esteriori osservabili dell'attività mentale In merito al rapporto tra cognitivismo e comportamentismo dopo il primo periodo di stretta osservanza delle posizioni rigorose proposte da Watson e Skinner molti comportamentisti hanno postulato l'esistenza di variabili interne al soggetto quindi non direttamente osservabili ma ugualmente in grado di influenzare e orientare il comportamento degli individui e quindi degne di studio da parte della psicologia Ecco, per un approfondimento sul comportamentismo appunto c'è un video a parte questo era soltanto per parlare appunto della connessione cioè tra comportamentismo e cognitivismo che stiamo appunto trattando in questo video Il neocomportamentista e precursore del cognitivismo Edward Tolman che nasce nel 1886 e muore nel 1959 prende il via da una serie di esperimenti sui ratti quindi sulla falsariga di quelli classici effettuati appunto sui ratti da Edward Thorndike che è stato invece un anticipatore del comportamentismo ecco Edward Tolman appunto prendendo il via da una serie di esperimenti sui ratti nel 1948 arriva a ipotizzare l'esistenza di mappe cognitive Cosa sono le mappe cognitive? Sono delle rappresentazioni mentali elaborate da un organismo in riferimento a un ambiente fisico quindi lo spazio tridimensionale ma anche simbolico quindi l'insieme di conoscenze che permette all'organismo di pianificare le proprie azioni in quell'ambiente che sia ambiente fisico o che sia ambiente simbolico In parole povere il modo in cui un essere umano o un animale vede e interpreta l'ambiente fisico ma anche l'insieme delle conoscenze in cui si trova immerso Al contrario però di quanto previsto da Thorndike che ammetteva che vi fosse apprendimento solamente in presenza di un rinforzo quindi di uno stimolo cioè il ratto faceva qualcosa solo se veniva stimolato in un certo senso ecco quello che invece emerge dagli esperimenti di Tolman non poteva essere fatto rientrare nello schema SR cioè lo schema stimolo-risposta che avevano teorizzato i comportamentisti in quanto l'apprendimento prevedeva l'intervento anche di variabili di tipo intenzionali in altre parole il topo non reagiva soltanto allo stimolo ma pensava in qualche modo in modo indipendente al fine di raggiungere un obiettivo ad esempio ottenere cibo oppure uscire da un labirinto per esempio nei modelli teorici elaborati dai cognitivisti si ipotizza l'esistenza di un certo numero di processi e meccanismi mentali anche se questi appunto processi e meccanismi non sono direttamente osservabili e non corrispondono necessariamente a strutture o processi cerebrali la nascita del cognitivismo si deve però in gran parte all'utilizzo di idee tratte dalla cibernetica e dall'informatica ai contributi dell'etologia e ad altri apporti ad esempio quello della neurofisiologia della matematica soprattutto la teoria dei giochi delle decisioni e delle probabilità e all'apporto anche della linguistica in particolare la grammatica generativo trasformazionale di Noam Chomsky allora abbiamo introdotto termini non comuni quindi cerchiamo di definirli velocemente allora la cibernetica è un ramo della scienza teorica e applicata quindi entrambe che studia e realizza dispositivi e macchine capaci almeno in teoria di simulare le funzioni del cervello umano autoregolandosi per mezzo di segnali di comando e di controllo in circuiti elettrici ed elettronici oppure in sistemi meccanici abbiamo parlato poi di etologia quindi l'etologia è lo studio comparato del comportamento animale con l'assunto che specifici moduli comportamentali caratterizzino e distinguono ciascuna specie al pari dei caratteri morfologici cioè caratteri morfologici vuol dire come l'animale appare esternamente ma anche a livello di organi interni quindi l'etologia parte dal presupposto che gli animali, specie animali si distinguono non solo per i caratteri morfologici ma anche per la presenza di specifici moduli comportamentali quindi di comportamento poi abbiamo introdotto il termine neurofisiologia che è un ramo della fisiologia che studia fenomeni connessi con l'attività degli elementi del tessuto nervoso a sua volta la fisiologia è la scienza che studia le funzioni degli organismi viventi animali e vegetali e mira a conoscere le cause, le condizioni e le leggi che determinano e regolano i fenomeni vitali quindi neurofisiologia la fisiologia applicata a tutti i fenomeni connessi con l'attività degli elementi del tessuto nervoso poi abbiamo la teoria dei giochi un modello matematico applicato in diversi campi al fine di studiare le situazioni competitive in cui cioè sono presenti più persone o più gruppi di persone o più organizzazioni dette appunto giocatori con autonoma capacità di decisione e con interessi contrastanti abbiamo poi la teoria delle decisioni questo è l'ultimo chiarimento che è la teoria che studia con metodi matematici e statistici la decisione preferibile tra varie possibili tenendo conto delle conseguenze derivanti da ciascuna di queste decisioni torniamo quindi al cognitivismo e diciamo che il cognitivismo comporta anche la rivalutazione di autori del passato quali ad esempio Willem Wundt Franz Brentano Frederick Bartlett Edward Tolman ed esponenti della psicologia funzionalista e gestaltista nonché il riconoscimento dell'opera di studiosi quali Jean Piaget e Jérôme Brunner all'interno del cognitivismo si possono distinguere due correnti la prima denominata Human Information Processing HIP che significa elaborazione dell'informazione umana si ispira alla cibernetica e sostiene l'analogia tra operazioni della mente umana e processi di elaborazione dei dati eseguiti dai computer i primi modelli di funzionamento della mente umana e questo è molto importante quindi da qui in avanti teniamolo molto ben presente che stiamo parlando dei modelli di funzionamento della mente umana quindi, ripetiamo i primi modelli di funzionamento della mente umana proposti dall'HIP negli anni 60 sostengono che la mente elabori le informazioni in maniera rigidamente seriale cioè prima una, poi un'altra, poi un'altra ancora e che la fase di selezione da parte della mente avvenga alla fine della sequenza delle operazioni di elaborazione questi modelli sostengono quindi che la mente umana abbia una capacità limitata di elaborazione dell'informazione e prevede canali di elaborazione autonomi cioè che non si parlano tra loro non sono connessi questi modelli hanno il merito di offrire un approccio alla materia relativamente semplice ma i dati sperimentali non hanno sempre confermato appunto la validità di tali modelli per via delle loro caratteristiche questi stessi modelli vengono definiti a oleodotto se avete presente come è fatto un oleodotto è semplicemente un tubo che seppur con diverse curve va da A a B ma è appunto un semplice e singolo tubo a partire dagli anni 70 sempre nell'ambito dei modelli HIP compaiono quelli a cascata o in parallelo che prevedono l'elaborazione contemporanea dell'informazione lungo canali comunicanti ricordiamo sempre che stiamo parlando del funzionamento della mente umana quindi ripeto prevedono l'elaborazione contemporanea dell'informazione lungo canali comunicanti quindi non a oleodotto un canale da A a B ma canali diversi che sono comunicanti tra loro e che sostengono che le operazioni di selezione vengano poste nelle prime fasi del processo elaborativo dell'informazione anziché nelle fasi finali come appunto nel modello a oleodotto questi modelli a cascata o in parallelo implicano quindi una capacità illimitata di elaborazione da parte della mente umana la possibilità di interazione tra i diversi livelli di elaborazione dell'informazione e la possibilità e la capacità sempre da parte della mente umana di ricorrere a strategie alternative mentre i modelli a oleodotto sono detti di tipo strutturale nel senso che postulano l'esistenza di blocchi di operazioni di elaborazione dell'informazione i modelli a cascata sono di tipo funzionale in quanto sostengono l'esistenza di flussi di informazione mentre prima erano blocchi di informazione ecco flussi di informazione sulla base delle quali la mente umana compie poi le varie operazioni e questo è tutto sui modelli HIP che lo ricordiamo significa Human Information Processing quindi elaborazione dell'informazione umana una seconda corrente del cognitivismo detta ecologica e ispirata all'opera dello studioso della percezione James Gibson ritiene che la mente accolga e riconosca in modo diretto le strutture di informazione che sono presenti nell'ambiente senza che siano necessarie operazioni di rielaborazione quindi riconoscimento diretto senza la necessità che la mente debba rielaborare la percezione di queste strutture ecco un chiarimento ecologia in quel caso appunto la seconda corrente del cognitivismo detta ecologica ricordiamo che il significato principale di ecologia non è quello da noi usato tutti i giorni ma in realtà il significato principale del termine indica quella parte della biologia che studia le relazioni tra organismi o gruppi di organismi e il loro ambiente naturale ambiente naturale inteso sia come l'insieme dei fattori chimico-fisici ad esempio il clima il tipo di suolo la luce il nutrimento eccetera sia come l'insieme dei fattori biologici ad esempio la competizione la simbiosi il parassitismo eccetera ecco insieme dei fattori chimico-fisici e biologici che influiscono possono influire sulla vita degli organismi stessi il cognitivismo ecologico pone l'accento sulla funzione adattativa dei sistemi psichici e sulla loro plasticità quindi adattamento e plasticità al contrario invece dell'orientamento HIP che tende invece a concepire la struttura mentale come fissa e priva della capacità di trasformarsi in relazione alle varie esigenze ambientali inoltre per la corrente HIP l'informazione trattata dai sistemi psicologici è essenzialmente rappresentata da simboli astratti cioè immagini rappresentazioni di un certo fenomeno e le operazioni compiute dalla mente sono computazioni sempre secondo il modello HIP cioè computazioni nel senso di calcoli o valutazioni eseguiti con metodi determinati e per fini determinati al contrario per il cognitivismo ecologico l'informazione è essenzialmente una struttura l'organizzazione in pratica dell'ambiente esterno e l'operazione fondamentale della mente è quella di cogliere le relazioni nell'ambiente stesso e da qui il significato appunto di cui abbiamo dato la spiegazione prima il significato del termine ecologia quindi ecologico cogliere le relazioni con l'ambiente esterno all'entusiasmo iniziale suscitato dal cognitivismo segue un ripensamento critico iniziato dallo psicologo tedesco naturalizzato statunitense Ulrich Neisser con l'opera intitolata Conoscenza e realtà del 1976 ricordiamo che fu proprio lo stesso Neisser nove anni prima a sistematizzare la prospettiva cognitivista con il saggio psicologia cognitivista la psicologia cognitivista infatti non riesce a fornire una spiegazione complessiva dei processi mentali oggetto della sua indagine e da qui appunto il ripensamento inoltre alcuni dei presupposti su cui il cognitivismo si basava ad esempio l'analogia tra mente umana e mente artificiale e la natura prettamente computazionale cioè di calcolo dei processi mentali sono stati fortemente messi in discussione negli anni successivi di conseguenza il cognitivismo confluisce in un più vasto e recente orientamento teorico interdisciplinare di cui il cognitivismo è uno degli assi portanti e questo orientamento teorico interdisciplinare è la scienza cognitiva un ramo della scienza cognitiva di recente sviluppo può essere considerato il connessionismo secondo cui l'architettura della mente e siamo sempre qui il funzionamento della mente la struttura della mente ecco l'architettura della mente può essere concepita sul modello di una rete questo secondo il connessionismo quindi una rete fatta di unità o nodi di elaborazione quindi unità di elaborazione o nodi di elaborazione ogni unità è collegata ad altre per mezzo di connessioni attraverso le quali si possono attivare o inibire le unità o nodi adiacenti modificandone così la risposta complessiva le unità comunicano tra loro in parallelo così che l'intera rete è attraversata in ogni istante da vari flussi diversamente collocati sulla superficie della rete stessa di conseguenza in tale sistema la conoscenza è rappresentata da schemi di attivazione che coinvolgono di volta in volta vari nodi quindi per un certo stimolo per un certo tipo di conoscenza si attivano un certo numero di nodi in una certa posizione mentre per un altro tipo di conoscenza se ne attivano altri secondo degli schemi in questo modo la conoscenza non è depositata in particolari rappresentazioni o processi ma è distribuita sull'intera rete per questo motivo si parla di parallelismo distribuito e infatti i primi e più noti sostenitori del connessionismo si sono raccolti attorno al programma parallel distributed processing PDP bene questo è tutto per quanto riguarda il cognitivismo come sempre un sincero grazie per la visione ciao a tutti e alla prossima